Oggi a Bologna grande convegno, grandi relatori, grande argomento perché è chiaro che la Sismac in questo momento attira l'attenzione di tutti i medi e anche di tutti gli enti, non solo locali ma anche del governo, ma sicuramente uno dei punti più importanti è l'accesso al credito alla povera gente e quindi a chi davvero non ha le risorse per poter fare gli interventi nonostante ecobonus e sismabonus. Io credo che il governo dovrà far attuare all'ufficio dell'entrante un decreto attuativo perché nel 1.200.000 condomini che ci sono in Italia sicuramente 45 milioni di italiani non avranno quelle risorse per portare avanti le linee di sicurezza e quindi bisognerà sedersi al tavolo per vedere come applicare correttamente quelle che sono le linee guida per davvero arrivare a una linea di miglioramento nelle nostre case. Per far questo sicuramente gli amministratori di condominio, quelli qualificati, quelli professionisti, quelli che oggi sono professionisti in base alla legge 4.2013, unitamente a tutti gli altri soggetti abilitati, devono vedere come affrontare l'assemblea condominiale per arrivare direttamente a coinvolgere anche gli abitanti perché se non coinvolgiamo gli abitanti non penseremo mica che solo con gli aiuti del governo riusciremo a mettere la linea di sicurezza su 150 miliardi di euro che servono sugli appennini. Quindi credo che ci vorranno moltissimi anni ma credo che la cosa più importante sia quello di sedersi unitamente a tutti gli amministratori di condominio che abbiano quelle caratteristiche e quelle competenze. Cosa bisogna fare? Intanto bisogna stabilire quali sono i soggetti tra gli amministratori di condominio che abbiano le caratteristiche rispetto alla nuova legge. La nuova legge, la 220 del 2012, ha stabilito quali sono gli amministratori professionisti, con questi bisogna sedersi al tavolo, bisogna vedere quali sono i professionisti che vanno qualificati perché si arrivi direttamente a dare un'indicazione oggettiva nell'assemblea di condominio con professionisti qualificati e abilitati, evitando la colpa ineligendo, quindi sapendo quali sono i professionisti che possono far migliorare le classi dei sisma bonus ma soprattutto non bisogna dimenticarsi che gli interventi dei sisma bonus non possono essere fatti da soli ma ci sono gli interventi sugli impianti e sull'involucro che non sono tutti sisma bonus. Quindi bisogna fare un progetto complessivo e quindi dialogare con i singoli condomini. Quindi per far questo credo che sicuramente gli amministratori di condominio, quelli professionisti, quelli che hanno le caratteristiche stabilite dalla legge siano dentro questo progetto anche perché i 45 milioni di abitanti che vivono nei condomini, nei 1.200.000 condomini in Italia credo che siano quelle che sono meno abbienti, quelle che non hanno i soldi e anche se si arriva ad avere l'85% comunque bisogna vedere come accedere a quel credito per poterlo finanziare perché bisogna pagarle quelle cifre. Chiaramente in queste normative la figura dell'amministratore di condominio che è centrale non è stata minimamente affrontata né come professionalità né come competenza ma soprattutto non è stata affrontata neanche per quali sono le sue responsabilità e i suoi compensi. La legge 220 del 2012 poi applicata col decreto BM 71 bis ha chiarito quali siano le competenze dell'amministratore. Quindi l'amministratore non deve essere protestato, non deve avere protesti, non deve avere carichi pendenti, deve avere un'assicurazione, deve avere un aggiornamento continuo e soprattutto deve avere una preparazione ad hoc rispetto a questo DM che ogni anno viene gestito. L'amministratore nell'eleggere le figure professionali nell'incaricare le imprese ha due colpe, una colpa ineligendo rispetto all'articolo 2049 del codice civile che dice che l'amministratore deve sapere quali siano i requisiti di legge per qualsiasi tipo di incarico e la seconda che deve vigilare su questo tipo di incarico che dà. Questo vale anche per le imprese che si mettono all'interno del nostro condominio e quindi voi capite che quando si tratta di sisma bonus, di eco bonus, di interventi che riguardano la legge è importantissimo che gli amministratori e quindi i condomini verifichino che questi amministratori siano veramente professionisti che abbiano i requisiti di legge anche perché diversamente attraverso il DM 140 possono essere fatti delle segnalazioni al ministero e quindi revocati. La cosa più importante ancora è che la maggior parte di questi costi poi sono a carico dei proprietari, quindi in Italia vige una legge che l'inquilino sia un contratto 4 più 4, 6 più 6 o d'altro, il proprietario paga le spese ma ha diritto di rivalsa sulle spese straordinarie solo ed esclusivamente sull'interesse legale. Voi capite che oggi l'interesse legale è molto basso e quindi le spese che uno può pagare e quindi che deve pagare a questo livello, soprattutto le spese che deve pagare per fare grossi incentivi e soprattutto grossi incentivi sulla sicurezza e quindi grosse spese sulle ristrutturazioni, avere solo il recupero dell'interesse legale è non certo interessato il proprietario a fare questi interventi. Quindi secondo me anche qua il governo dovrebbe o comunque attraverso l'ufficio dell'entrata dovrebbe permettere un certo tipo di ragionamento o comunque sedersi a un tavolo e vedere quali siano le conseguenze che ci sono direttamente fra la proprietà che investe e gli inquilini che pur se sono inquilini hanno comunque, soprattutto quelli che sono 8, 10, 15 anni all'interno di quelle abitazioni e anche in futuro hanno la possibilità di godersi quel bene diverso quindi con più sicurezza e quindi è giusto che una parte diversa quindi ragioniamoci, mettiamo tutte le parti interessate al tavolo per discutere di quali siano davvero questi tipi di interventi.